Ai microfoni di Nero Verde Channel con William Heinzel, portiere della Castellanzese. Ciao William e benvenuti ai nostri microfoni. Buonasera a tutti. Ti chiedo subito William, le tue emozioni per questo derby. Era un derby a tutti gli effetti contro il Lilla del Legnano. L'avete dominata la partita nel primo tempo, siete andati avanti addirittura 3-0 e tu hai fatto una parata non fondamentale. Di più, hai sbarrato la porta in un calcio di rigore, opponendoti al tiro del loro attaccante, parata poi pesantissima visto che poi la Castellanzese non ha vinto 3-0 ma ha vinto 3-2 quindi fondamentale quel gol di vantaggio. Le tue emozioni? Allora, le mie emozioni tante. Uno perché all'andata abbiamo fatto la peggior partita della Castellanzese che potevamo fare. Ci hanno dominati e qua in casa nostra dobbiamo comandare noi. Penso che l'abbiamo dimostrato, primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo e poi ovviamente loro erano una squadra formata per fare i play-off, per vincere il campionato, quindi ci stava a soffrire. L'abbiamo sofferto bene, abbiamo preso il primo gol, il secondo, dopo mancavano ancora 25 minuti, abbiamo usato la testa per mantenere la partita e mantenere il risultato. Abbiamo fatto un'ottima prestazione, secondo me. Assolutamente sì, William, non posso che confermare le tue parole. Come domanda conclusiva ti chiedo, anche con Mr. Palazzi abbiamo visto questa grande crescita rispetto a un girone fa, perché oggi veramente questa Castellanzese-Legnano è un vero spartiacque per voi. ti voglio chiedere anche a livello personale quella che è stata la tua crescita, dando sempre più fiducia al reparto e anche più sicurezza agli interventi. Si può dire che veramente aver parato oggi uno dei due rigori, perché poi te ne hanno dato anche un altro, uno gliel'hai concesso. Sei stato anche magnanimo. Può essere davvero anche per te un ulteriore trampolino di lancio per la tua crescita come giocatore? Io sono molto contento dall'inizio dell'anno adesso, all'inizio dell'anno fino a poche partite fa ho fatto poche presenze, perché comunque c'era Davide Paziani, che siamo secondo me due portieri di altissimo livello. Assolutamente. Senza fare i fenomeni, però abbiamo una grande coppia. Sto giocando bene, sto giocando tranquillo, sereno. Alcune volte faccio gli errori, ma secondo me sono vecchio per la regola, ma sono ancora giovane, secondo me ho tante cose da imparare. Sono felice, sono felice. Spero di giocare ancora e spero che l'anno prossimo divestino ancora questi colori. La speranza è assolutamente reciproca, William. Grazie per le tue parate, per la tua disponibilità. Buona serata e godiamoci questa vittoria nel derby. Grazie a voi. Ciao a tutti.